Buongiorno ragazzoli e ragazzuole e buon weekend! E mi ritrovate in questa rubrica che è su Like It, che sembrava fosse scomparsa così come era nata, ma in realtà finalmente sono riuscita a farla risorgere, giusto in occasione della Pasqua, che in realtà è passata per quello. No, non è l'occasione della Pasqua. No, è che ci tenevo tantissimo a farvi questo video su quest'autore, no? Solo che è uno di quegli autori che non è come Filippa Gregory, che voi prendete semplicemente l'elenco delle opere e le chiacchierate tranquillamente. Cioè questo è un autore che ho proprio capito, cioè io dovevo rendergli omaggio e di conseguenza mi sono messa pure a studiarlo, per cercare di spiegarvelo al meglio, per cercare di riportarvelo al meglio, per cercare di svendervelo al meglio e soprattutto di farvi leggere tutti i suoi romanzi per potervi rompere le scatole in eterno e per fare in modo che voi rompiate le scatole a me con quest'autore dicendomi Dio, ho letto tutti i suoi libri, mi piace tantissimo, se ci tengo un sacco che voi leggiate i libri di quest'autore. Ma penso di avervelo già svenduto abbondantemente nei video passati, però almeno vi faccio un bel video sciunto in cui proprio ve ne parlo abbondantemente, vi racconto vita, morte e miracoli di questo meraviglioso autore. Nel caso non si fosse ancora capito di chi stavo parlando, perché so che voi sapete che ho quei due altri autori, che proprio ogni tanto ve li tiro fuori, ve li lancio. In questo caso vi sto parlando del meraviglioso e unico William Wilkie Collins. William Wilkie Collins nasce a Londra l'8 gennaio del 1824. Mettetemi questa parentesi all'Alberto Angela, ma semplicemente perché sono nozioni proprio importanti che servono, ma giuro che la sua vita la racconta proprio in tre righe. Il padre è un noto pittore e ha amici del calibro di Wordsworth e Coleridge. Chi di voi in famiglia non ha avuto dei parenti che avevano amici come Wordsworth e Coleridge? Nel 1836 Wilkie Collins e famiglia fanno un meraviglioso e lunghissimo viaggio in Italia, che sarà un viaggio molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'ispirazione letteraria di Wilkie. Tornato dall'Italia, Wilkie inizia a frequentare una scuola privata e di cui incontra un professore che lo spinge a scrivere perché ne riconosce il talento letterario. Il padre non era molto d'accordo sulla questione della scrittura perché avrebbe voluto che Wilkie Collins diventasse ecclesiastico. Qui ci sta un'analizzata registrata in sottofondo. Wilkie in realtà non fa nello scrittore, nello ecclesiastico perché prende prima gli studi di economia e poi intraprende gli studi di legge. Avvocato fatto e finito Wilkie Collins. Nel 1848 esce The Memories of William Collins, ovvero il memoriale della vita di Ben Collins e suo padre. Suo padre infatti era morto poco tempo prima e Wilkie Collins decide di rendergli omaggio tramite questo libro che poi sarà il primissimo libro che scrive. Il suo primo romanzo risale al 1850 ed è Antonina. Antonina è un romanzo storico perché è ambientato durante l'invasione dei Goti ed è per protagonista appunto questo personaggio femminile. Come sguardo centrale non soltanto appunto l'invasione dei Goti ma il conflitto generazionale tra appunto la protagonista femminile e suo padre. Tema che sarà molto ricorrente soprattutto nei primissimi romanzi di Wilkie Collins ovviamente per chiare ragioni biografiche. Nel 1851 Wilkie Collins fa l'incontro diciamo della sua vita professionalmente e anche a livello di amicizie più importante ovvero conosce Charles Dickens. Charles Dickens collaborerà per le riviste All the Year Round e Household Words ma non finisce qui il rapporto con Charles Dickens. Infatti il rapporto tra i due diventerà ancora più stretto quando il fratello minore di Wilkie Collins che si chiama anche lui Charles sposerà la figlia più piccola di Charles Dickens, Kate e lo stesso Charles, non Dickens, Collins che è pittore ed illustratore e disegnatore esattamente come suo padre illustrerà la copertina di Il mistero di Edwin Druth come noi sappiamo l'ultimo romanzo di Charles Dickens è pure il compiuto. In realtà il rapporto Charles Dickens e Wilkie Collins non è che sia sempre stato molto rose e fiori ve ne vorrei parlare dopo però se adesso vi dico ve ne parlo dopo come minimo io me ne dimentico per cui ve ne parlo adesso. Charles Dickens per Wilkie Collins probabilmente era una figura paterna una specie di fratello maggiore, uno zio comunque era questa figura protettrice nei suoi confronti è quello che ha spinto Wilkie Collins a scrivere è quello che ha pubblicato i romanzi di Wilkie Collins per chi di voi ancora non lo sapesse All the Year Round e Household Words erano due riviste di stampo letterario in cui i romanzi venivano pubblicati a puntate lo stesso Charles Dickens pubblicava a puntate questo è il motivo per cui se voi leggete qualsiasi romanzo di Charles Dickens se non proprio tutti ma quasi tutti trovate tipo ogni tot capitoli un colpo di scena pazzesco questo chiaramente succedeva per invogliare il lettore ad andare avanti nella lettura ad andare avanti a comprare la rivista appunto per sapere come il romanzo andava a finire ecco la stessa cosa succede in Wilkie Collins anche se in realtà i colpi di scena di Wilkie Collins non sono così pessimi e alla beautiful come quelli di Charles Dickens senza nulla togliere Charles Dickens perché io lo adoro però effettivamente ogni tanto si inventa di quelle cose che voi le leggete, mio dio Charles c'è da dire che Charles Dickens e Wilkie Collins scrivevano cose completamente diverse perché Charles Dickens era sì quello per la novella molto sensazionalistica per quanto riguarda i colpi di scena ma lui si è focalizzato molto di più sul discorso del sociale quello che invece fa Wilkie Collins è proprio di scrivere tutt'altro ma ci arriveremo più avanti per tornare al loro rapporto come vi dicevo il loro era un rapporto sicuramente molto prolifico dal punto di vista letterario ma non era facile dal punto di vista personale a raccontarvi questa amicizia molto ambigua che c'era tra le due è l'autore Dan Simons nel romanzo Drude che se per caso voi volete recuperare se per caso voi non avete mai recuperato se per caso io non ve l'ho nominato abbastanza volte vi lascerò tipo alla recensione da qualche parte qui in giro per invogliarvi a leggere questo romanzo appunto che vi narra la genesi del romanzo Il Messero di Dan Drude ma soprattutto dal punto di vista di Wilkie Collins quella che era l'amicizia con questo grande autore e forse padre padrone in certo senso che è Charles Dickens è stato fatto che su Household Words Wilkie Collins pubblica quelli che probabilmente sono i suoi romanzi più famosi tra il 1860 e il 1870 La Donna in Bianco del 1860 Senza Nome del 1862 Armadale del 1866 e La Pietra di Luna del 1868 Se io dovessi consigliare dispassionatamente da quale romanzo partire se volete iniziare a leggere Wilkie Collins io vi direi di partire o dalla Pietra di Luna o dalla Donna in Bianco che probabilmente sono i suoi romanzi più celebri ma sono anche probabilmente quelli meglio riusciti e quelli che vi fanno comprendere di più quali sono le caratteristiche principali dei romanzi di Wilkie Collins La Pietra di Luna è un romanzo molto semplice in realtà perché è un mystery novel che si incentra tutta sulla scomparsa di questo diamante indiano di cui vi si narrano le origini mano a mano nel corso della storia e il fatto che a un certo punto venga rubato è il fatto che attorno a questo diamante indiano si svolgono tutte le vicende di questa famiglia oltretutto se siete appassionati di un certo detective inglese dal nome di Sherlock Holmes dovete sapere che Wilkie Collins è una specie di precuzore di Arthur Conan Doyle infatti è colui che si dice aveva inventato la vera e propria detective novel La Donna in Bianco è leggermente diverso rispetto a quello che è La Pietra di Luna perché sì, non si svolge attorno alla scomparsa di un oggetto fisico appunto come questa pietra indiana del romanzo ma si svolge attorno alla scomparsa di una donna che è la donna in bianco del titolo questa donna all'inizio del romanzo incrocerà il sentiero di William Althright che è il nostro protagonista maschile e da lì in poi incrocerà la vita di tutti gli altri personaggi del romanzo e trovo meraviglioso come Wilkie Collins sia riuscito a fare questa cosa cioè ad intrecciare le storie di personaggi completamente diversi tra di loro legandoli al filo di un personaggio solo che è appunto Anne ed è riuscito a farlo senza però pulsare troppo la mano senza far sentire che era una cosa completamente finta anzi è perfettamente plausibile che tutti questi personaggi abbiano a che fare con questa donna del titolo oltretutto io trovo che sia meravigliosa la donna in bianco perché contiene uno dei miei personaggi in assoluto preferiti dei romanzi di William Collins ma in generale della letteratura inglese della letteratura ancora più in generale che è appunto Marian Marian è un po' il prototipo di quelle che saranno le donne di Wilkie Collins perché voi dovete sapere che William Collins è forse uno degli autori più femministi che ho mai letto soprattutto se voi pensate in che epoca lui scriveva non vi consiglierei mai di partire da Senzanome il romanzo del 1862 perché Senzanome pur avendo alcune caratteristiche in comune con tutti gli altri romanzi di Wilkie Collins è in realtà molto particolare non c'è un mistero da risolvere non c'è la scomparsa di qualche personaggio non c'è la scomparsa di qualche oggetto tutto il romanzo non è una specie di lungo caso giudiziario in cui si cerca di scoprire qualcosa in cui si cerca di fare giustizia ma è una storia se vogliamo di vendetta è una storia che ruota tutto attorno a un personaggio femminile apparentemente molto fragile e molto debole ma che si dimostra ad essere tutt'altro e che ad un certo punto il romanzo sarà anche pronta ad azioni assolutamente riproveboli nella nostra epoca figuriamoci in quella del passato per riuscire a ottenere giustizia Armadal il romanzo nel 1866 in realtà non viene particolarmente apprezzato dal pubblico ed è una mystery novel che ruota tutto attorno a quattro personaggi se non ricordo male appunto nel nome di Armadal non so perché all'epoca non viene particolarmente apprezzato non vi ho citato ma soltanto perché è precedente il romanzo nel 1852 che è Basil ma non vi preoccupate che ci torniamo sopra perché io sono molto affezionata per il romanzo in quanto è tipo il primo romanzo più conosciuto di Wilkie Collins mi mando una sottoforma di romanzo ma dopo ci torniamo come vi ho detto precedentemente Wilkie Collins è probabilmente l'invento della detective novel anche se all'epoca veniva chiamata sensational novel ci sono alcune caratteristiche comune a tutti i romanzi di Wilkie Collins una di queste è probabilmente quella che si nota maggiormente quando voi leggete i suoi romanzi è la narrazione su tutti i livelli cioè il fatto di avere personaggi più personaggi che raccontano la stessa storia da vari punti di vista basti pensare alla pietra di luna che è appunto come vi dicevo un lunghissimo caso giudiziario in cui si ruota attorno appunto alla scomparsa di questo di Amantegnano e ogni personaggio vi racconta la sua versione della storia come se fosse un lunghissimo interrogatorio la stessa cosa succede in un certo senso anche in altri romanzi magari non attraverso confessioni davanti a un giudice ma attraverso delle lettere per esempio c'è sempre un mistero da risolvere in tutti i romanzi di Wilkie Collins succede qualcosa e bisogna risolvere questo mistero o se non è proprio un mistero direttamente da risolvere come si fa nel deserto di nove in cui c'è da scoprire il colpevole uno dei personaggi ha sempre qualcosa di nascosto ha sempre qualcosa di ambiguo per cui tu lettore sei spinto a proseguire nella lettura del racconto o appunto del romanzo per riuscire a scoprire qual è il segreto di questo personaggio qui chiaramente ruota attorno poi tutta la vicenda del romanzo magari non sono scomparse di persone o scomparse di oggetti ma magari è il passato tragico e oscuro di uno dei personaggi abbiamo un'altra caratteristica importante dei romanzi di Wilkie Collins Wilkie Collins ama moltissimo le donne che siano donne fragili che siano donne impotenti che siano donne che non riescono a veicolare il proprio destino che siano donne forti o che siano un fan fatal Wilkie Collins ama tutte e quante le donne Wilkie Collins penso che sia sempre è stato un autore mi ha dato l'idea a favore dell'indipendenza femminile io amo profondamente i personaggi di Wilkie Collins perché non hanno nulla di meno dei suoi personaggi maschili anzi spesso e volentieri sono molto più forti e molto più intraprendenti dei personaggi maschili basta pensare a quella che vi citavo prima Marian che rispetto al William Hartwright della donna in bianco immagentessa William Hartwright è il classico eroe maschile quello buono bravo simpatico carino gentile quello che proprio tipo ti sposeresti perché è un'anima candida e farebbe di tutto per la donna amata che non è male a una sua sorella Marian è quella che non guarda in faccia a nessuno ma nonostante essendo una donna tosta e col controcoglioni non nega la sua femminilità e non si nega l'amore ma non si nega neanche i personaggi maschili nel senso che non è che gli odia gli uomini perché dice sono gli uomini che mi hanno messo nella condizione di essere soltanto una donna e in quanto donna una che deve semplicemente sposarsi e avere dei figli no lei semplicemente è donna e decide di vivere la sua femminilità in questo modo non solo Marian della donna in bianco ma persino la stessa Magdalene di Senzanome penso che sia uno degli esempi maggiore di donne forti e dipendenti protagoniste dei romanzi di Wilkie Connes Magdalene è una ragazza che apparentemente è appunto l'anima fragile e candida che vi dicevo prima ma in realtà tira fuori un carattere e tira fuori delle idee per riuscire ad ottenere la giustizia che vera e propria giustizia non riesce a darle immagino per l'epoca fosse abbastanza sconvolgente e poi c'è la femme fatale sono esattamente le femme fatale che noi possiamo incontrare nei film noir degli anni 30 e 40 cioè molto belle ma di una bellezza particolare di una bellezza intrigante oscura sono donne che riescono a intrappolare nella rete qualsiasi personaggio anche quello più intelligente e più tagliato sono per esempio la protagonista dell'albergo stregato che è un bellissimo racconto o l'arpia protagonista del romanzo Basil donne quanto le ama Wilkie Collins per quanto riguarda i protagonisti maschili che cosa fa Wilkie Collins Wilkie Collins non doveva avere una grandissima considerazione del suo senso in quanto i personaggi maschili sono quasi tutti molto ingegni molto innamorati ed eroici questo sì questo glielo do basti pensare appunto come dicevo Walter o Franklin ma sono anche dei grandi tontoloni come appunto al caso di Basil o sono personaggi malvari oscuri e stranieri come per esempio il conte fosco della donna in bianco Franklin che vi ho citato prima è il protagonista maschile della pietra di luna un altro tontolone in realtà anche mai come Basil Wilkie Collins ci tiene molto anche al tema dei figli illegittimi come vi ho detto prima Wilkie ha convissuto per molti anni con questa donna Caroline Grace senza mai sposarle con cui appunto ha avuto dei figli e il tema dei figli illegittimi è soprattutto molto forte nel romanzo senza nome che poi sarà un po' la spinta che darà a Magdalene come dicevo la protagonista a ottenere giustizia proprio perché lei è una lei e la sorella sono due figlie illegittime e a cui viene negata completamente la loro irritità e si ritrovano sull'astrico da un giorno con l'altro anche il tema del doppio è molto forte nel romanzo di Wilkie Collins cioè il fatto di contrapporre dei personaggi completamente diversi tra di loro soprattutto per quanto riguarda la stessa famiglia basti pensare a Laura Marion o a Basil e a suo fratello Walter e Marion nella donna in bianco cioè personaggi che si ritrovano ad affrontare la stessa situazione ma che di fronte allo stesso problema o alle stesse complicanze reagiscono in maniera completamente diverso e adesso vi faccio una carrellata dei miei romanzi di Wilkie Collins e vi dico quali sono i miei preferiti questo è senza nome che come vi ho detto è sì un romanzo che ho matto tantissimo di Wilkie Collins ma io non vi consiglio di partire da questo perché è molto lungo molto complesso ed è sicuramente uno dei romanzi sì più belli di Wilkie Collins proprio perché è completamente diverso rispetto ai romanzi classici di Wilkie Collins ma se voi non avete mai letto nulla di lui io non vi consiglio di partire da questo perché lo potreste trovare noioso La donna bianco io penso sia uno dei miei romanzi preferiti di Wilkie e come vi dicevo come vi ho ampiamente parlato che se non è necessitato di parlare ancora è sicuramente uno dei più straordinari che ha scritto e adoro i personaggi femminili di questo romanzo li adoro veramente tutti quanti anche quelli più deboli anche quelli che apparentemente sono più fragili perché nonostante siano appunto così fragili tirano comunque fuori la loro forza e trovo straordinario come i personaggi femminili siano in grado di annebbiare completamente i personaggi maschili e come siano comunque molto reali nonostante l'autore sia un uomo io credo che Wilkie Collins sia ispirato molto alla donna della sua vita Caroline per raccontarci alcuni dei suoi migliori personaggi femminili e probabilmente si è lasciato fatto anche diciamo tra virgolette dare una mano da questa Caroline per raccontarci meglio questi personaggi per renderli più reali e per uscire completamente dalla pagina mentre voi leggete il romanzo L'albergo estregato è un lunghissimo racconto di Wilkie Collins con protagonista una fan fatale e con tutta una parte che è ambientata in Italia se nella donna in bianco compareva un personaggio che il conte fosco che è di origine italiana qui invece c'è tutta una parte che è ambientata a Venezia per questo vi dicevo all'inizio che è importante questo viaggio che ha fatto Wilkie Collins quando era ragazzino con la sua famiglia perché probabilmente l'Italia è riuscito a far scattare qualcosa dentro di lui che poi l'ha portato a scrivere e che l'ha portato a ambientare anche parte di un suo romanzo in Italia o comunque a creare dei personaggi di origine italiana sempre per il discorso come succedeva nella Gothic novel che l'Italia era un po' quel paese esotico e dai paesi esotici di solito arrivano i personaggi un pochino più ambighi e infatti quello esattamente che succede qua e che succede a bordo in bianco questo è un altro cortissimo come potete vedere racconto di Wilkie Collins che è La folia di Moncton che io ammetto che ancora non ho letto ma semplicemente perché è l'ultimo Wilkie Collins che ho in casa e sono assolutamente disperate per cui voi sapete che io devo tenerne sempre uno di da parte ogni tanto mi viene voglia di leggerlo però so che finito di leggere questo nel mentre leggo questo devo assolutamente ordinare un altro Wilkie Collins perché sennò dopo non so dove andare a sbattere la testa questa è la mia versione della Pieta di Luna che è una versione che ho trovato su un mercatino a Bologna devo averlo pagato tipo uno o due euro una cosa del genere ed è il romanzo da cui vi consiglio di partire se voi non avete mai assolutamente letto Wilkie Collins proprio perché ha tutte le caratteristiche dei suoi romanzi più importanti ed è sicuramente uno dei romanzi più importanti ed è iper citato in quello che è Drude di Dan Simmons altro libro che io vi consiglio di leggere quando però avete letto alcuni romanzi di Wilkie Collins perché se lo leggete prima di leggere i romanzi di Wilkie Collins praticamente vi rominate la trama di metà dei suoi romanzi e allora non ha più senso magari che lo leggete o comunque lo leggete con meno ansia di sapere come andando a finire i suoi romanzi anche perché come vi ho detto Wilkie Collins scrive delle sensational novel e delle detective story se voi già sapete come non ha finito non c'è più il gusto per cui questo ve lo potete leggere dopo 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 potete leggere Drude di Dan Simmons c'è un po' ce la mi sta citando potentemente la veste nera che io non vi ho citato prima è sempre una mystery novel ed è un romanzo meraviglioso straordinario mi è piaciuto tantissimo perché questo in realtà è tutto narrato tramite le lettere per cui quando vi dicevo che non soltanto casi giudiziali ma anche tutta una serie di lettere beh mi riferivo appunto a questo romanzo che è la veste nera ed è meraviglioso perché è una di quelle mystery novel che non è incentrata sulla scomparsa di un oggetto sulla scomparsa di una persona ma sul passato tragico e misterioso di un personaggio anche qui c'è un personaggio femminile che è tipo super strong e mi piace tantissimo è Stella che anche qui che è apparentemente molto dolce e molto accondiscendente ma in realtà anche lei come fanno quasi tutte le eredite di Willie Collins a un certo punto prenderà in mano le eredite del suo destino e riuscirà a scoprire qual è il mistero dietro in questo caso suo carissimo e amatissimo marito l'ultimo romanzo che vi presento di Willie Collins è questo che è Basil questo è il come vi dicevo il romanzo che mi ha fatto conoscere Willie Collins ma in una maniera un po' strana in realtà il primissimo libro che ho letto di Willie Collins è stato La Piedra e Nuna non è stato questo Basil però questa parte non c'entrerà assolutamente niente col video e sarà soltanto una maniera di farvi ridere quei 20 secondi 20 Willie Collins io l'avevo sentito nominare nel Drood di Dan Simmons ammetto che io conoscevo Wilkie soltanto di nome non perché avevo letto dei suoi romanzi per cui sì io sono una di quelle che ha letto Drood prima di leggere tutti i romanzi di Willie Collins però ho fatto passare abbastanza tempo tra Drood e la lettura dei suoi romanzi da dimenticarmi quasi tutto quello che succedeva nei suoi romanzi e potermi di leggere in tutta tranquillità senza dire adesso io mi ricordo però che tu succedeva che finiva così e per cui non mi godo assolutamente più questo romanzo Basil io l'ho trovato in un negozio delusato a Piacenza e l'ho preso non solo perché è un romanzo di Wilkie Collins e avevo già letto la Piedra e Luna ma perché mi ricordava qualcosa questo titolo io ho conosciuto Wilkie Collins a quanto pare quando ero soltanto una giovine di 13-14 anni credo perché incappai in un film televisivo che appunto si chiamava Basil ora voi dovete sapere che dalle opere di Wilkie Collins non esistono quasi per niente dei film o delle serie televisive soprattutto targate BBC esiste una serie televisiva Rai tratta dalla Piedra e Luna esiste una miniserie della BBC tratta dalla donna in bianco con dentro Andrew Lincoln al secolo Rick quello che in teoria dovrebbe sconfiggere i zoom in The Walking Dead ma ce la fa poco e male e esiste anche un film tratto da Basil cui ho un ricordo molto vago il film di Basil aveva come protagonista Chris Slater che all'epoca era un attore che andava molto che era tipo ovunque Claire Forlani che nel caso non ve la ricordate ve la ricordo io era quella che faceva innamorare Joe Black in quel film soporifero che era vi presento Joe Black e che se voi non l'avete mai visto al cinema cioè siete tipo dei fighetti cioè vi presento Joe Black e tre ore di film al cinema ma già vogliamo mettere ma la vera chicca è l'attore che interpreta quel fagiolo di Basil che effettivamente all'epoca c'era questa faccia e la faccia che va la stessa faccia che c'è adesso però all'epoca c'era la faccia la fagiola effettivamente adesso c'è la stessa faccia però non c'è più la faccia la fagiolo però c'è la stessa faccia c'è proprio l'intima specicata perché non vi potete proprio sbagliare perché è sempre uguale non cambia mai poi per gli attori che tu pensi che ormai è un po' più di moda che ormai è passata la sua epoca cioè piaceva un sacco quando ero ragazzina io non a me piaceva un sacco però quando ero ragazzina poi dopo tipo lui diventa grande poi ha smesso di fare il mestiere che faceva quando tu poi dici vabbè basta ha smesso di fare l'attore ma fa dell'altro poi ti si ripropone torna sempre uguale tra l'altro come vi dicevo e dopo tu parli di Wiggy Collins se ti ricordi di questo film meraviglioso non so come possiate recuperare in qual caso se proprio vogliate vedere questo film tratto da Basil che tra l'altro io ricordo veramente molto poco questo film cioè mi ricordo proprio qualche scena quella del film ma vi assicuro che non è assolutamente uguale al romanzo per cui cioè o lo recuperate semplicemente perché vi piace l'attore protagonista perché è fregno però per il retto potete anche tranquillamente farne a meno perché sinceramente non c'entro particolarmente con il romanzo fatemi sapere quali romanzi di Wiggy Collins voi avete letto quale vi è piaciuto di più quella che vi è piaciuto di meno quali sono le caratteristiche dei suoi romanzi che proprio vi appicciano di più se non l'avete mai letto se avete intenzione di iniziare a leggerlo vi prego a leggerlo di Wiggy Collins vi scongiuro vi scongiuro io vi mando una copia del film televisione di Pesil se siete fani di coso vi la mando non so come la recupero però la mando e ne possiamo parlare possiamo ragionarci sopra su questo adattamento e sapete che la BBC quest'anno farà un adattamento della donna in bianco per cui ovviamente dovete leggere la donna in bianco cioè è qui e qui dovete farlo tra l'altro io volevo ringraziare la fazze che vi sto ristampando tutti i libri di Wiggy Collins cioè finalmente una casa editrice che si è accollata a questa cosa di ristampare Wiggy Collins e finalmente una casa editrice che ha scoperto Wiggy Collins perché va bene Charles Dickens però Wiggy Collins è un gran figo e c'era bisogno che qualcuno ristampassi i romanzi di Wiggy Collins se avete richieste per i prossimi autori di As You Like It fatemi sapere scrivetemelo qua sotto scrivetemelo in trovate un messaggio privato scrivetemelo come vi pare tanto io vi leggo ovunque e dovunque se ci metto un po' di tempo a rispondere mi sapete che è normale buone letture